Come sempre facciamo, siamo arrivati al momento del titolo nel mirino della settimana e questo è un titolo che a me piace particolarmente, o per meglio dire, insomma, non tanto il titolo, adesso ce lo racconterai tu però parliamo di Beyond Meat, un'azienda che produce sostituti per la carne, prodotti caseari a base di vegetali nata nel 2009 con sede a Los Angeles, quindi prodotti per vegetariani. Allora, perché hai scelto questo titolo? Beh, sostanzialmente come al solito l'ho scelto per ragioni di mera analisi tecnica, fermo restando che sicuramente può essere un settore che è esploso e chiaramente va e andrà in forte espansione, ma detto questo l'analisi tecnica ha come sempre guidato quello che poteva essere un qualche indizio per mettere nel mirino Beyond Meat, quindi secondo me ci sono dei livelli che sono stati toccati e quindi d'ora in poi dovremmo monitorarla step by step, day for day, giorno per giorno e infatti ho preparato due grafici e se è possibile potremmo vedere il weekly per primo Partiamo dal weekly, assolutamente sì, lo vediamo tra poco, eccolo qui Partiamo dal weekly perché vediamo come da quando è stata quotata il Beyond Meat sia salita diciamo in maniera molto ripida poi abbia fatto una discesa fino ai minimi del 2020, minimi che poi sono stati di nuovo toccati poche settimane fa diciamo andando a validare, andando a farci tracciare quella linea tratteggiata che altro non è che un supporto dinamico quindi un livello peraltro ai 60 dollari circa, quindi cifra tonda, soglia psicologica quindi un livello che dopo un mese nel quale è stato toccato ha tenuto e da lì sembra che possa essere proprio anche partito un rimbalzo e quindi diciamo che si è formato un pavimento, chiamiamolo così, sotto il minimo di quell'area e scendendo poi di time frame, quindi possiamo passare al time frame daily andiamo proprio a vedere come si stia sostanzialmente creando da varie sessioni una fase di... cambiamo scusa un secondo dalla regia, perfetto, adesso cambiamo il grafico, la strappa è sempre la stessa andiamo a vedere il daily, perfetto, eccolo qui Enrico perfetto, allora noi nel time frame daily quello che possiamo notare è come si sia formata un'area di congestione, un rettangolo ossia dopo il test di quella linea tratteggiata che vediamo, che ha formato un supporto il prezzo ha fatto un massimo in area 75 dollari, adesso veleggia sempre tra i 68 e i 70 quindi una fase di congestione, trading range, a questo punto la conferma dell'inversione del trend ribassista la avremo con la rottura dei 75 dollari, quindi discesa, aria supportiva, accumulazione e adesso ci occorre semplicemente attendere che il prezzo vada a rompere al rialzio i 75 dollari quindi uscire dall'alto di quel rettangolo in giallo e probabilmente ciò segnalerà la fine del trend ribassista la fine dell'accumulazione e l'inizio di un trend rialzista e lì potrebbe essere interessante posizionarsi in ottica long di medio periodo sull'azione Bayon Meat Ok, non posso chiudere questo spazio senza chiederti se tu hai mai assaggiato i prodotti di Bayon Meat Io direi di passare alle domande degli ascoltatori Vabbè, ma perché scusa? Ma dicono, dicono, perché anche io non ho mai assaggiato i prodotti che siano molto buoni però, insomma Vai con la prima domanda degli ascoltatori Va bene, allora facciamo così, se gli ascoltatori hanno assaggiato i prodotti me lo scrivano così almeno abbiamo una risposta più mirata